ma non ti eri mai fatto vedere prima da piccolo se non si trova entro la fine dell'estate siamo due sfigati no aspetta non ti fidi no è che ci siamo appena conosciuti forse perché all'inizio uno dà più importanza ad altre cose tipo il sesso beh anche sì certo no si si è almeno a prendere due polpi per far cosa trombarsi che cazzo dice perché la cosa più simile alla topa che esiste solo te perché in inghilterra si dice 8 bussi che c'è ha fatto il mio polpo ma l'avevi comprato te perché devo chiamare una puttana per tutto ti da una mano dolori e aculazioni precoci blocchi mentali hai già visto sì alcuni ce l'hanno però volendo posso anche farmi fare una seghe e basta no ma sei scemo una seghe a 150 la faccio io vorrei mettere la testa fuori dal finestrino però c'è sempre paura di una galleria di un palo e quindi non lo fai però io lo voglio fare